allora signori questo è un video di risposta al video che ha fatto il signor thomas del canale vecchio nerd riguardante i 10 manga più venduti della storia allora questi manga qua sono astro boy bleach si mette un po più a fuoco scusami non mi beccano per i copyright cioè comunque sono astro boy, Bill Hitch, Detective Conan, Doraemon, Dragon Ball, Gold 13, Kochikame, Naruto, Oishimbo, One Piece e poi ci sta pure Slam Dunk che ora sta all'undicesimo posto però più tardi cambia allora questo è dal 1961 dall'uscita di astro boy perché è stato il primo fino al 2020 ecco qua signori allora facciamo un po con cioè si sono alternati l'uno con l'altro allora facciamo un po con un commento signori i primi che sono usciti tipo astro boy che è colato gold 13 dove sta gold 13 vediamo un po così riesco a mettere il punto giusto ecco astro boy, gold 13, Doraemon allora avevano infatti già c'è stata una concorrenza a quei tempi però pochi li conoscevano per esempio astro boy è arrivato in italia pure Doraemon è arrivato in italia però gold 13 no cioè io ho visto un paio di filmati di gold 13 poi ci arrivo un po' dopo poi ci sta comunque i primi che sono usciti no saranno sono dovuti scavare la come si chiama la fagnam comunque sono quelli che sono dovuti andare a scavare più e più di tutti quanti gli altri perché gli ultimi che sono venuti già avevano trovato il terreno già pulito tanto per farvi capire mo' però una cosa che non si evidenza dal tutto il dal tutto il filmato che ce l'ho scritto pure dentro al commento qua che poi metterò pure in descrizione ora signori qui non si sa se sono delle storie infinite come One Piece che dicono che non finisce mai oppure delle storie continui tipo Dragon Ball che ogni tanto esce un nuovo Dragon Ball ora stavo scendendo Dragon Ball Super non so manca a che cavolo sia arrivato perché io bene o male ho finito di vedere Dragon Ball con Dragon Ball Z perché poi c'era il Dragon Ball PP il Dragon Ball GT che mi ha fatto proprio uscire la bim dalla bocca allora poi ci sta cioè non si sa se sono infinite cioè sono infinite o continui ma non si sa nemmeno che se sono sempre la stessa storia raccontate in salse diverse come fu in Gundam Gundam perché non l'avesse capito cioè non è coronavirus te ne fai capire Gundam è sempre la stessa storia no ogni serie che fa è sempre la stessa storia soltanto che te la rigirono in questa maniera te la rigirono in quell'altra cioè non so se Gundam Gundam da piccolo me lo vedevo poi ho lasciato verde perché non mi interessava proprio comunque non so non c'ho nulla contro Gundam eh sia chiaro comunque non si sa se sono o in storia infinita o continui o sempre la stessa salsa cioè sempre la stessa storia in salse diverse oppure che ne so solo semplici ristampe perché qua lì sono tanti quelli più venduti no perché se sempre sono semplici ristampe allora è tutta un'altra cosa comunque allora facciamo un epilogo su quello che ci sta no allora One Beast capisco che possa essere anche se è arrivato successivamente no cioè uno degli ultimi che è arrivato però non è coronavirus è sicuro che non è coronavirus allora One Beast posso capire tutto il successo che ha avuto perché One Beast se lo vedono in tanti maschi femmine se lo vedono in tutti quanti perché One Beast fa ridere c'ha un sacco di cose dentro c'ha avventura c'ha non sa imparare c'ha pure intelligenza per questo capitone Barbascura X non so non so può vedere comunque allora però del rimello ci riescono comunque One Beast tiene tutto cioè per questo va avanti Dragon Ball cioè tiene pure avventura cosa anche se sei ridotto a fare io faccio la canna che a me è il più grosso cioè io ce l'ho il più grosso di te ce l'ho io il più grosso di te cioè all'inizio signori tentate da Gombolo Toriyama non sapeva fare cioè non sapeva le mie tavole no non sapeva fare una tarta a ruga addominale cioè quando disegnava Tensing no c'è faceva una specie d'arteluga addominale che pareva la Criccia non sapeva però aveva il fatto che puntava su Son Goku e poi c'aveva già tipo Arale Dottor Slum che è già alle spalle comunque come ho detto all'inizio non sapeva proprio disegnare cioè le dita erano disegnate uno schifo tutto quanto erano schifo però andava eh ora invece se deve avere gli ultimi Dragon Ball su tutto quanti muscoli muscoli a destra a sinistra paura di poveri pupazzi muscolosi comunque allora Dagon Ball posso riuscire a capire perché pure lì ci sta un po' di tutto non so se ragazzi Naruto Naruto ci posso capire perché ha sdoganato proprio il ninja cioè il mondo dei ninja tanto è vero che pure in Saint Seiya ci hanno messo pure là i ninja ci hanno messo Aruto tanto è per farvi capire pure lì ci hanno dovuto mettere i ninja comunque questo Naruto è più che altro una specie di ninja vero e ninja quello lì proprio del teatro ecco però comunque va forte pure perché ci sta pure lì avventura da ridere cose invece certi mancano tipo i Cavaliari dello Zodiaco cioè nel San Seiya che non si ride mai praticamente l'unico lì dentro che fa una bella risata è The Hat Musk però che fa una risata sardonica non è che fa vabbè ci stanno tipo che ne so Tatsumi cioè Milok che fa un poco ridere che è quello Kiki che fa un poco ridere Seiya Pegasus che fa un poco ridere però la vera e proprio risata l'unica risata la fa The Hat Musk perché il resto là non si ride poco mai Kenshi ma anche lì si ride cioè lì ci sta poco poco ridere cioè sarà già con Sensei Kenshi e l'uomo TIG tanto per farvi capire che si ride di meno gli altri un poco si ride ci sta un po' di comicità comunque allora dopo ci arriva questi qua no allora comunque ci sta Naruto che posso pure capire il Detective Conan no questo fa ragionare ci sta da ridere dentro fa ragionare cose e posso benissimo capire che post aveva avuto il successo cioè ora è il quarto al mondo cioè però guardate One Piece si è ridistanziato proprio tutti eh ma faccio il cavo Detective Conan con tutto che pure uno degli ultimi si è distanziato proprio tanto cioè fa ragionare cose è simpatico anche se alcuni pensano che quel ragazzino che riesce a fare alcuni sarà antipatico soprattutto alle parafeministe tossiche perché loro capiscono che a lui non lo batteranno cioè non ci arriveranno mai a quello quello è per loro lo odiano perché sape tutto cosa però lo amano sotto sotto perché vabbè sono femministe e tossiche che ci vogliono fare parafeministe e tossiche che ci vogliono fare allora Goldo 13 signori Goldo 13 no per anni è stato il primo eh ora vi faccio vedere no Goldo 13 vedete per anni vedete già nel 92 ancora nel 92 guardate ci stiva già a cosa One Piece non ci stiva no aspetta un po' qua ecco qua il tipo pure quando nel 99 stava ancora Goldo e battalapia Goldo 13 che sta qua Goldo 13 99 che poi è stato scalzato da One Piece e cose come signori Goldo 13 tanto per farvi capire pochi lo conoscono questo questo così vabbè Goldo 13 signori è una specie di mista da come si chiama City Under come si chiama quell'altro Leon non so se ci avrete presente quello con Jacques Renault come si chiama quell'altro che fece da Nikita ah Victor l'eliminatore cioè non so se ci avrete capito cioè però sinceramente parlando in Italia non è arrivato no ci è arrivato stato un bagno di film ma di film ma no vabbè uno si può sempre o mai al giorno d'oggi ti va a prendere un manga che sta da altra parte del mondo come se nulla fosse comunque allora Goldo 13 no tutto questo non ce lo vedo uno capi solo fucile ogni tanto si incuocchia con qualche femmina comunque Goldo 13 avuto successo non so neanche se si ride lì dentro non mi pare proprio che avesse ridere qualcuno è soltanto un sicario prezzolato che fa quello che è Casper quando mi rimane ancora poco tempo allora Kochikame questo lo posso capire perché fa ridere sono le storie di un poliziotto nell'ambito cittadino comunque questo fa ridere perché storie quotidiane sono pure simpatiche posso capire che posso avere avuto tutto questo successo è un po' come di tec tipicona perché si parla sempre di polizia però questo qui è tutta un'altra cosa è simpatico come prodotto non mi pare è bello comunque Oishimbo parla di cucina è uno che fa recensioni per non capire perché non l'ho mai visto Oishimbo comunque è simpatico cioè poi parla di cucina e cosa allora ci può pure stare perché a molti piace mangiare piace pure vedere i vari piatti del mondo e altre cose del genere allora passiamo allora ci posso pure capire Slime Dunk è simpaticissimo cioè fa proprio le battute cose di Amici Sakuraki cioè però sinceri signori non è l'unico perché nella storia ho visto un sacco di volte un sacco di prodotti diciamo che manga anime che sono basati sopra allo sport cose che fanno pure loro ridere cioè non è andiamo a far ridere questa comicità che sta ambientata nella scuola ma ce ne sono stati tanti non capisco perché solo lui è andato così forte gli altri questo è la classifica di 2010 è l'undicesimo di Ramon che non ce l'ha fatto comunque allora poi ci sta il Bleach che è pure un po' come Dragon Ball One Piece Naruto però questo è ambientato pure nell'ottotomba non lo so perché Bleach non l'ho visto poi tanto però quando ho visto le recensioni delle altre persone ho capito bene o male che cosa deve essere e posso pure riuscirlo a capire signori Astro Boy è stato uno dei primi cioè non è stato proprio il primo vabbè c'è stato già in quei tempi si aveva già abbastanza concorrenza comunque Astro Boy vedete signori una volta era più forte cose ma invece non se lo guardo praticamente proprio nessuno cioè è difficile pure ci fanno ancora dei film nuovi però non è più il tempo suo cioè ormai è roba di robot ormai i tempi sono cambiati proprio in maniera pesante mi dispiace perché comunque da piccolo me lo vedevo pure comunque era bello come cartello signori Doraemon signori allora Doraemon è qualcosa di bello stupendo proprio perché ti stimola proprio la fantasia con i ciuschi che faceva no riusciva a fare un sacco di cose te ne fanno capire non so se c'è vero il Death Note quello là il Death Note come come si chiama era praticamente un'arma che con quella poteva riuscire a far fuori chiunque in poco tempo dentro il Death Note già nella prima serie no almeno quello che ho visto che io per cartone già ci stiva un'arma come il Death Note era una specie di come si chiama pulsante cioè il pulsante del dittatore che uno premiava quel pulsante e uno che ci stava davanti cioè quello lì uno premendo quel pulsante faceva fuori sparire proprio nel nulla i propri avversari era proprio l'arma dei dittatori già da lì si incomincia a fare la cosa per il Death Note comunque qui è arrivato un dicesimo però passiamo alle cose importanti ho ancora poco tempo vorrei dire una cosa qui in tutta questa classifica non ci sta né un Kenshiro né un Saint Seiya né come si chiama un Death Note né un Sailor Moon né un Lupin Ders manco Giorgio cosa nessuna nessun prodotto di Gonagai nessun prodotto della Rumiko Katagashi cioè quello che ha fatto la Muge che ha fatto Inuyasha Masonicoku che ha alcune femministe tossiche no e quelle paratossiche pensa che i Masonicoku sia una cosa per deficiente perché casalinghe deficiente ma le femministe tossiche e quelle paratossiche della vita non hanno capito ma è un cavolo quelle vanno avanti a chiedere favore ai maschi parlo parlo però non sono attenti a quello che ci esce per bocca cioè non voglio fare i soliti nomi comunque allora signore di tutti questi qua non riesco a capire se ho detto quando dovete uscire doveva essere chissà quale dicevo che era una grande rivoluzione cosa io non vedo proprio niente cioè adesso sto di l'uomo bianco tossico comunque allora ho detto non ci sta non ci sta un gold rack un mazing ma è mai possibile che ho detto non ci sta come si chiama ram ramo e mezzo non ci sta un ramo e mezzo ma è mai possibile cosa senza egli è stato uno degli prodotti più ammendati in tutto il mondo almeno il cartone animato perché in manga non lo so se la gente è invogliata a pigliarlo perché ha visto già il cartone animato cioè non ce ne sta manco cioè c'è come si chiama Hawkton Kent tanto a farvi capire Ken Sheer Candy Guerriere cioè quando quando usciva a me il videogioco di Candy Guerriere che tu toccavi una persona quello per PlayStation 1 e quello ti scoppiava i miei amici mi sono messi a dire Omar da tempo che volevamo vedere un videogioco del genere è stata proprio una rivoluzione perché quello che è uscire si basa sulla revoluzione me l'ero segnata da qualche parte di questa sulla revoluzione e sull'iper remia cioè per dire che toccando una parte ci fai affluire tanto di quel sangue che appunto dove hai toccato scoppia manco fosse il coltello Wasp tanto per farvi capire ecco qua una cosa così innovativa l'ambiente era quello di Mad Max una cosa così innovativa cioè non è andata avanti dovrebbe esserci la classifica dei primi 20 così almeno vediamo un po' veramente come sono andate le cose io ce l'ho detto signore siete riusciti a fare la classifica dei primi 20 farebbe poi ho detto fate pure per quanto riguarda i fumetti statunitensi perché una cosa che manca una cosa in fumetti statunitensi sarebbe pure quelle coreane ma qui in Italia chi è stato cioè fate per quelle statunitensi e per quelli europei perché tipo ad esempio qui in Europa abbiamo i buffi che dovrebbero essere i primi in assoluto come cavolo si chiama Asterix che c'è pure stato un periodo in cui Asterix americartone facevano proprio vita poi vabbè poi infortunatamente si sono rinnovati hanno beccato cioè c'è stato un periodo in cui stava soltanto le immagini che facevano non ci stavano battute come c'erano i vecchi Asterix di una volta cioè almeno sto parlando di lungometraggi perché poi il resto non lo so se ci stava Lucky Luke ci sta ancora Lucky Luke penso che ci sta ancora Lucky Luke qui in Italia abbiamo come si chiama Colto Maltese Diabolik cioè per essere sincero non ci sta Delecchi e Tipicova non ci sta un Lupenders che ha mezzo mamma porca miseria e vabbè non ci sta manco Giorgio Bizzarra Avventure cioè manco Saitama vabbè Saitama è proprio giovanissimo cioè Giorgio Bizzarra Avventure cioè da quella hanno picchiato un sacco di cose hanno copiato un sacco di cose da quella e qui non ci sta un Giorgio Bizzarra Avventure e cancop porca miseria eh vabbè Saitama Sailor Moon no tanto per farvi capire no è stata la rivoluzione proprio l'emancipazione femminile in Giappone è venuta con Sailor Moon a farvi capire no c'è stato un periodo in cui in Italia tutte le bambine sapevano che erano Sailor Moon cioè Sailor Moon italiana eh si intende sempre la schifezza proprio vabbè signor mi va cioè io spero che poi faccia un filmato no in cui far vedere tutti i fumetti del mondo manga fumetti perché sa la differenza il manga si legge eh a contrario di come se noi solitamente leggiamo i libri eh questa è la grande differenza vabbè il fatto che sia quasi sempre bianco e nero quello in un altro per risparmiare perché se fosse come un fumetto americano cioè se uno per forza vuole vedere i colori e allora andiamo proprio messi malamente comunque signori mi sa che ho già rotto troppo i marroni eh io spero che il vecchio nerd ne faccia altri di questi video perché è stato bravo eh cosa che diceva ottima game così si intende però come ho detto signori è una bella cosa io spero che ne faccia altri di cose faccia vedere perché so i fumetti per maschi con le per femmine cioè per tutto quello cioè io spero che ne faccia altri perché cosa meno ci divertiamo questo è il bello di queste cose bisogna divertirsi nella vita vabbè signori mi pare che ho detto tutto non devo dire più niente eh andiamo avanti vota Omar eh e vabbè se qualcosa c'è un gruppo tani saluti